Ciao e benvenuti su Top Tech Italia. In questo video vi mostrerò, stando ai nostri gradimenti personali, le migliori chiavette Wi-Fi del 2022. Mettetevi comodi e iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato la chiavetta Wi-Fi Aigital. La Aigital è una chiavetta Wi-Fi dotata di antenne orientabili, il che è molto utile quando il router è lontano dal PC o si devono coprire lunghe distanze, come ad esempio andare da un piano all'altro nella stessa abitazione. Oppure magari se si vuole utilizzare il portatile in giardino. Le antenne multidirezionali consentono di migliorare il segnale con un guadagno di 5 dBi. Nonostante il corpo di questa chiavetta sia piccolo, si tratta di un modello affidabile e molto facile da configurare e pienamente conforme agli standard attuali. Vi segnaliamo che è compatibile con tutti gli standard precedenti e con quasi tutti i router presenti sul mercato. In termini di sistemi operativi vi possiamo garantire che è perfettamente compatibile con tutte le versioni di Windows, Linux e Mac. Come sempre su Top Tech Italia, se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche, beh, cliccate sul link nella descrizione. Mi raccomando! Al terzo posto abbiamo selezionato la chiavetta Wi-Fi Dolwins AC1300. Dolwins è un adattatore Wi-Fi USB conforme allo standard richiesto, per garantire una velocità davvero pazzesca. Dite definitivamente addio alla lentezza della connessione o al buffering del browser video. Questa chiavetta è ampiamente compatibile e si adatta a Windows 8, 10, 11 e dispositivi Mac OS. Questo modello incorpora un chip RTL che offre la possibilità di trasformare il vostro laptop o PC in un vero e proprio punto di accesso Wi-Fi. Cosa significa? Beh, semplice. In questo modo sarete in grado di fornire una connessione Wi-Fi ad altri dispositivi. L'unità 3.0 è in grado anche di supportare velocità di trasferimento fino a 5.8 GB al secondo, per prestazioni 10 volte superiori. Un altro aspetto da sottolineare è che è retrocompatibile con i dispositivi di categoria 1 e 2. Inoltre questo modello wireless offre un trackpot fino a 867 MB al secondo su 5 GHz e 400 MB al secondo su 2,4 GHz. Si tratta di una soluzione interessante, magari per lo streaming TV, i giochi online e tutto quello che riguarda la navigazione sul web. Al secondo posto abbiamo selezionato la chiavetta Wi-Fi Max Esla AC1300. Il Max Esla è dotato di due antenne omidirezionali ad alto guadagno. Ciò significa che possono ruotare di 180 gradi. Infatti queste due antenne aumentano il raggio di ricezione per fornire una connessione Wi-Fi stabile ai vari dispositivi. Questo modello offre una maggiore capacità di segnale. In questo modo, beh, potrete beneficiare di trasferimento dei dati ultraveloci. L'USB 3.0 invia i dati 10 volte più velocemente rispetto all'USB 2.0. In questo caso potrete godere delle migliori prestazioni e di una gamma più ampia per quanto riguarda la connessione del segnale. Infine è possibile installarlo grazie ad un CD inallegato. È anche possibile collegare questo adattatore con un client alla rete Wi-Fi. Questo driver è dotato di una doppia larghezza di banda di 1300 MB a secondo per una velocità davvero pazzesca. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet clicca sui link nella descrizione. Lo hai già fatto? Al primo posto abbiamo selezionato la VRK Wi-Fi Key. Non c'è da stupirsi se al primo posto troviamo un prodotto di casa VRK. Inoltre la sua capacità di aggiungere la funzione Bluetooth lo rende un dispositivo davvero unico. Questo grazie alla versione 5.0 del Bluetooth. In questo modo permette al computer di connettersi ad altri dispositivi wireless. Questo driver supporta la doppia modalità, l'accoppiamento semplice, il basso consumo energetico e le funzioni anti-jamming integrate. In questo modo è possibile godere di una connessione a internet davvero impeccabile. La sua installazione è abbastanza semplice. Per farlo è necessario installare il software contenuto nel CD in dotazione, quindi è necessario collegare il driver Wi-Fi USB. Quando si vede lampeggiare la luce significa che sta funzionando alla grande. Offre prestazioni ottimali e un raggio di connessione molto ampio. Per un segnale migliore l'antenna può ruotare completamente di 360 gradi. Questo prodotto infine funziona con qualsiasi router Wi-Fi AC. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella e segui tutte le novità targate Top Tech Italia. Alla prossima, ciao!